ciao a tutti e bentrovati sul mio canale youtube andiamo a vedere insieme questo nuovo video allora inizio con mettere la farina in autolisi quindi la verso nella ciotola e preparo l'acqua sto sotto i 300 grammi adesso mano a mano che la metto poi mi regolo quanta acqua ne assorbe perché anche se mettete la zero un'altra marca tra una marca e l'altra potrebbe comunque variare quindi ci regoliamo quando mettiamo l'acqua allora la giro così con un cucchiaio questo è un impasto fatto a mano naturalmente quindi senza planetaria semplicemente così con un cucchiaio inumidisco per benino la farina poi la copro continuo un pochino con le mani la copro e la cinautolisi minimo 30 minuti potrebbe stare anche uno però volendo passato il tempo riprendo l'impasto e ci verso sopra il licoli questo è un licoli che ho rinfrescato 4 ore fa l'incirca non lo metto tutto perché era più di 100 grammi quindi ne metto l'incirca 90 grammi quindi non è che cambia se mettiamo 10 grammi in più o in meno di licoli ok continuo a girare così con il cucchiaio piano piano io qui ho accelerato un pochino il video il video ho aumentato un po la velocità finisco di mettere tutta l'acqua ok e giro così semplicemente faccio assorbire bene nell'acqua ne ho lasciato un goccino per raggiungere il sale ma scusatemi stasera sto di nuovo con la voce un pochino rauca ecco qua continuo ad impastare poi aggiungo il sale per ultimo e giro ancora quest'idea di questi panuozzi un po lunghi grandi mi è venuta da un video di fulvio marino io ho modificato poi la ricetta togliendo il lievito di birra e mettendo il licoli quindi l'ho personalizzata un pochino continuo a girare con il cucchiaio ma ora copro e lascio alle circa 15 minuti e poi impasto ancora un pochino così in questo modo facendo una sorta di pieghe faccio riposare ancora 30 minuti prezzo a poco non serve stare lì a vedere l'orologio con precisione e poi faccio un giro di pieghe vedete l'impasto già si è compattato bene si sta formando il glutine e sta diventando setoso ecco qua scusate i rumori di sottofondo ma fa caldo abbiamo le finestre aperte e quindi si sentono un po' di rumori adesso trasferisco l'impasto in questa ciotola pulita un pochino oleata e lo metto in frigo deve stare in frigo 24 ore quindi un giorno intero lo copro naturalmente lo copro con pellicola e via ci vediamo domani allora eccoci qua io non ho aspettato le 24 ore cioè l'ho tirato fuori qualche ora prima diciamo prima che passassero le 24 ore l'ho tenuto a temperatura ambiente quindi l'ho fatto sostare fuori dal frigo però presto a poco comunque sono passate 24 ore lo metto sul piano di lavoro vedete com'è bello morbido e lo divido in due e poi vado a formare dei panetti così senza toccarlo molto vedete faccio i panetti come come si fa con la pizza in questo modo quindi con questa dose ci farò due panetti due panetti e metterò poi in due contenitori a lievitare ancora ci metto un po' di semola per non farli attaccare li copro e li lascio lievitare adesso guardate adesso è scoppiato il caldo improvviso quindi lieviteranno presto un'ora due ore però ecco regolatevi se la cosa se fate questa questa ricetta in inverno sicuramente i tempi cambiano bene ed eccolo vedete il primo impasto il primo panetto guardate com'è cresciuto tantissimo ma anche l'altro anche troppo forse ve l'ho detto sta facendo veramente caldo e con la lievitazione dobbiamo comunque regolarci un po' meglio allora però si presenta bene molto bello adesso io ho già acceso il forno perché vanno infornati quasi subito il tempo di portare il forno a temperatura non lo tocco quasi vedete appena appena l'ho girato appena quindi cerco di allungarlo è morbidissimo morbidissimo ci metto mi aiuto la semola faccio preparo anche il secondo eccolo qua quindi lo allungo come ho fatto con quell'altro lo piego leggermente così ed eccoli quindi dicevo il forno l'ho messo a 250 e a 250 ho messo soltanto uno spruzzo di vapore iniziale e basta adesso invece della pala uso questa questa teglia che è più lunga della pala perché essendo lunghi voglio metterli tutte e due insieme ecco vedete sono rimasti i bassini li ho anche schiacciati un pochino guardate che belle bolle è veramente bello questo impasto e quindi dicevo poi farò scivolare con la carta forno sulla teglia infuocata che sta nel forno come di solito faccio ed eccoli eccoli qua vedete stanno già cuocendo si sono anche alzati un pochino il tempo di cottura è relativo regolatevi con i vostri forni naturalmente io poi dopo i primi 15 minuti ho abbassato un pochino ho messo a 230 perché ho visto che si stavano scurendo un po' troppo ed eccoli li metto ora su una gratella sembrano belli poi vediamo l'interno e li faccio prima raffreddare un pochino belli croccanti wow vediamo sorpresa belli bellissimi guardate adesso lo apro così vediamo dentro dentro com'è profumino di pane buono wow bellissimi sono veramente veramente belli e adesso non resta che farcirli a modo nostro comunque mettete quello che volete di tutto di più verdure ma anche mortadella salami perché no friarelli tutto quello che volete io l'ho farcito così molto semplicemente per fare la foto c'è la mozzarella di bufala vedete la ricottina scusate insalata pomodori basilico e olio d'oliva naturalmente bene amici vi ringrazio della visione vi invito a condividere il video a lasciare un like ad attivare la campanella se non l'avete fatto così potete seguire tutti i miei video ciao a tutti e buon appetito ciao a tutti ciao